Si è svolta a Lecce la cerimonia in memoria del Guardia Marina Giorgio Tafuro, medaglia d'argento a valor militare che purtroppo oggi non è ricordato dignitosamente. Giorgio Tafuro era un giovane ufficiale armato di tanta passione per la Marina e per la patria. È stato uno dei primi caduti per la resistenza al nazifascismo. È importante come figura da tramandare ai posteri, anche se purtroppo la sua città l'ha trascurato molto. Infatti nel corso degli anni il parco in cui è stato realizzato il monumento a Giorgio Tafuro è stato progressivamente trascurato e il degrado ha preso il sopravvento dando anche luogo a forme di vandalismo. Il cipo commemorativo è divenuto preda dei vandali che lo hanno deturpato con scritte e disegni incomprensibili. Sì, è stata asportata pure la targa, sono state asportate le catene che cingevano il monumento. Ricordo che questo monumento è stato realizzato dai soci dell'Associazione Marinai di Lecce, con una grandiosa cerimonia che ha vista la partecipazione della Marina Militare, del capo di Stato Maggiore della Marina Militare dell'epoca. Nel 2011 è stato fatto il decennale del monumento con un'altra manifestazione, però purtroppo i risultati sono questi. Per questo il gruppo di Lecce dell'Associazione Marinai ha elaborato un progetto di riqualificazione del monumento e dell'antiguo piazzale, presso il quale il cipo potrebbe essere spostato al centro del parco per darne maggiore e dignitosa visibilità. A nostro parere andrebbe collocato altrove, nella piazza, sempre nel parco da furo, ma in una posizione più visibile e nell'ambito di una riqualificazione più generale e complessiva dell'intero parco. Il sindaco Carlo Salvemini si è anche di grado disponibile a iniziare un percorso di dialogo per valutare quelle che possono essere le soluzioni migliori.